ciao a tutti e a tutte e benvenuti e benvenuti nel mio canale allora oggi video All Avon di campagna 1 ho qui con me l'ordine di acquisto adesso vi faccio vedere cosa ho ordinato allora nel pacco mi è arrivato un album di campagna 2 e l'album di campagna 3 poi ho ordinato tutto allora un set di anelli dafne questi qua adesso vi faccio vedere come sono allora sono in argento sono fatti così allora misura 10 perfetti allora due sono fatti così sono due che si possono unire così e il terzo anello è un po' più bombato qui così alla fatto così questi qua set di anelli dafne 7,95 aspettate aspettate a posto prima che li perda ok ok poi ho preso anelli dafne anelli dafne anelli dafne anelli dafne pagato 6,95 con tutta la cosina che sono fatti che sono fatti così che sono fatti così ci hanno due hanno il gambo un po' più grosso e uno il gambo è un po' più sottile vediamo se riesco a farli vedere così e questi venivano 6,95 sempre misura 10 poi mi sono presa di nuovo lo spray show di nodi perché sapete che mi piace tantissimo poi ho dato 2,95 poi ho preso 3 creme mani a 6 euro l'una 3 creme mani 6 euro e ho preso una crema mani protettiva questa qui questa rigenerante e questa qui crema crema tonificante ok cioè rigenerante glicerina intensiva comunque 6 euro poi ho preso contro la cerca sul cancro ho preso il bracciale a stona un nastrino un bracciale a stona un nastrino della solidarietà ne ho presi due potete vedere quante venivano? 3,95 insomma ed è questo qui aspettate io me l'ho già indossato vediamo se ce ne vi faccio vedere quello di mia sorella vi faccio vedere quello di mia sorella che una parte veniva devuta contro la ricerca sul cancro fatta così qui che ha tutti il simbolo della ricerca sul cancro su tutta la tutta bracciale tutte e due mi sono venuti 5,90 ho preso del praticamente per prendere il il campagna fedeltà della ah si mi sono arrivati anche i prodotti della 17 e della 18 comunque per prendere il caricabatterie ho preso due profumi due deodoranti per il scopo 4,95 ho preso far away per lei si vede? ok e per me ho preso black suede anche se è uomo mi piacciono i profumi da uomo questo qui 4,95 poi a 6,95 ho preso il caricabatterie questo qui portatile che adesso vi faccio vedere qui dunque c'è dentro il cavetto sto guardando cosa sta facendo il mio cane sto andando sul il libretto delle istruzioni e carica batterie con la che è praticamente in questa confezione e il caricabatterie è fatto così è a specchio c'è uno specchio c'è uno specchio di borsetta sempre molto comodo lo mettiamo a posto qui qui da me c'è un vento lo stesso ok ed infine ho preso il profumo Secret Fantasy Wonderland guardate quanto è carina la confezione ma il packaging del profumo è una cosa fantasmagorica allora questo è il profumo scusate sono 50 ml con una scavenza comunque sono 50 ml e la figata di questo profumo è che ha il ciondolino peccato e il profumo è una cosa spaziale questo l'ho pagato a 9,95 e la signora dove ho ordinato mi ha regalato il lo spray perfumato lo spray perfumato per il corpo pur blanca ok questo era tutto quello che avevo preso in campagna 1 dell'Avon spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto spolleggiate se vi va iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video ciao